Il mio corso di Finitore Il mio corso di Finitore Narri Il mio corso di Finitore Il rete da Giardini Non si preoccupare 30 secondi Alessiamo a fare il nostro Bocca al lupo, come va? Tranquilla e rilassato Gigi danza Ciao 10 5 4 3 2 1 Vai Sinistra piena 30 Allo ZB Lancia destro 2 8 Pucca vuole In 10 50 sconnessi Allo ZB Stacca sinistra 2 più dentro 2 più dentro 30 Destra 5 In 10 50 sconnessi Occhio destra piena 30 Alla vero Stacca sinistra 2 più attenzione Scicanna in tra sinistra Accenno destro 3 Attenzione Attenzione Secondo Stacca Tornante Destro 2 Meno Accenno Sinistro 50 sconnessi E tieni sinistra Attenzione Scicanna in tra sinistra 50 50 Umidi Sinistra 4 Umida 30 Occhio Sinistra piena 100 E al primo Meno Attenzione Attenzione Scicanna in tra sinistra In tra sinistra Per Per Destra 4 Più Occhio Scivola 50 In tarda Sinistra 3 Sinistra Via Più Occhio Meno Tieni sinistra Più 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 E al palo rosco Stacca Perry Scicanna in tra sinistra Tra sinistra Tra sinistra Perry Destra 4 più lunga 200 Bravissimo 2 2 2 2 3 2 4 4